La Regione Campania ha messo a disposizione, attraverso la società in house sviluppo Campania, 28 milioni per strumenti di finanza agevolata a favore dell'artigianato campano. Le risorse finanziarie puntano a sopportare le imprese artigiane nel promuovere l'innovazione e lo sviluppo dei prodotti dell'artigianato. Con questo intervento si intende favorire l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici. Il bando per l'artigianato della Regione Campania è stato presentato nel corso di un convegno dal titolo Strumenti di finanza agevolata, l'artigianato campano per la valorizzazione del territorio, organizzato dall'Ordine dei Commercialisti di Napoli, che si è tenuto ieri nella sala conferenze dell'Ordine. Il presidente Vincenzo Moretta ha spiegato che il bando è fondamentale per il rilancio di un settore dalla grandissima tradizione. Devo ringraziare soprattutto la Regione che ha introdotto questa misura importante per le imprese rivolte all'artigianato, ma devo ringraziare anche la Camera di Commercio. Questo trio che oggi ha voluto assolutamente organizzare questo evento è stato innanzitutto tempestivo e cercheremo di dare tutte quelle informazioni utili perché il territorio possa recepire queste misure, questi fondi necessari non solo per far sopravvivere l'artigianato, ma anche per farlo continuare, far continuare una tradizione importante e sappiamo Napoli quante ne ha e quanto è necessario che si porti nel futuro. All'incontro sono intervenuti Girolamo Petroni, commissario straordinario della Camera di Commercio di Napoli, e Mario Mustilli, presidente di Sviluppo Campania. Si vuole far sì che si sensibilizzano i vari imprenditori a poter utilizzare i vari vantaggi che chiaramente sia la Regione o comunque qualsiasi ente possa emanare a livello finanziario. Si sostiene la struttura più piccola del nostro sistema produttivo, che però è anche la più affollata, è la più debole, per cui è giusto che una società in house come Sviluppo Campania faccia qualcosa per sostenere lo sviluppo e la crescita di queste piccole imprese.